allora hanno buttato tutta la spazzatura insieme carta plastica tutto tutto insieme hanno buttato hanno caricato tutta la spazzatura di una settimana e l'hanno buttata tutta lì dentro guardate un po che fanno guardate che fanno bidone bianco allora nero dell'indifferenziato carta plastica tutto insieme guardate qua che fanno guardate che fanno bidone bianco bidone nero dell'indifferenziato con la carta con la plastica guarda guarda la bidone marrone della raccolta dell'umido non ha accolto tutto hanno messo tutto in un unico camion tutta la spazzatura tutta insieme guarda la ecco qua questo altro bidone pure questo viene caricato e viene svuotato ecco qua e noi paghiamo le tasse ma non esiste proprio ecco qua hanno buttato tutto insieme tutto in un unico camion tutto in un unico camion guarda la